58 Parti del corpo Parti del corpo Arsumurajolan Io disegno un uomo 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 Arrasu awwalan Prima la testa 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 Arragilu yartadi qubbaa L'uomo indossa un cappello L'uomo indossa un cappello L'uomo indossa un cappello Assharu la yarahu ahan Non si vedono i capelli Non si vedono i capelli Non si vedono i capelli. Al-udhunan, la yarahuma ahadun aydan. Non si vedono neanche le orecchie. Non si vedono neanche le orecchie. Al-udhunan, la yarahuma ahadun aydan. Non si vede neanche la schiena. Non si vede neanche la schiena. Non si vede neanche la schiena. Io disegno gli occhi e la bocca. Io disegno gli occhi e la bocca. Io disegno gli occhi e la bocca. L'uomo balla e ride. 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 Lui ha in mano un bastone. Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo. Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo. Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo. Lui indossa anche una sciarpa. Anche le gambe sono robuste. 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 Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo. 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 Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo.